Ciao Enzo, questa è la spacca piede in cui si usa per le piccole infiammazioni urinarie oppure per le pietre, calcoli che ci sono in base che tu non puoi pisciare insomma che ci sono questi calcoli, usi la spacca piede, questo è uso personale in caso mai vai in erboristeria però a sapone come devi ricorrere al proprio medico questa è un'erba naturale, si fa capire che funziona, la fai una tisana la sera e la bevi diciamo ogni sera